Riprendono l'infa e vigore le attività delle associazioni abitanti del centro storico di Biceglie che nelle scorse settimane è andata al voto per l'elezione del nuovo direttivo. La carica di presidente nel prossimo triennio sarà ricoperta da Loredana Acquaviva, affiancata da Leonardo Albrizio, Massimo Ingravalle, Giulia Mastro Giacomo e Vincenzo Arena. Tra i temi più attenzionati dall'associazione, l'igiene, il decoro urbano e la sicurezza, con precedenza assoluta però alla questione legata alla nuova ZTL H24 in vigore nel centro storico dal primo luglio. Come primo passaggio abbiamo chiesto, abbiamo ottenuto la convocazione di una riunione per discutere della recente istituzione della ZTL H24 che entrerà in vigore dal primo di luglio. Ieri l'incontro a Palazzo San Domenico con il sindaco Angarano, il suo vice con delega al centro storico consiglio, altri componenti della giunta comunale ed il comandante dei vigili urbani dell'olio. È stato un incontro molto tranquillo e proficuo, devo dire, perché comunque abbiamo portato le nostre domande, i nostri dubbi in assemblea. Devo dire che è stato un incontro molto positivo perché ci hanno risposto e hanno anche accolto quelle che erano le nostre perplessità e suggerimenti. Non sono mancate le proposte da parte degli associati e recepite dalle istituzioni. Abbiamo proposto ad esempio una cosa che non era stata inserita nell'ordinanza, il varco a porta di mare, perché quella è una via di accesso che attualmente, essendo già presenti alcuni varchi, è utilizzata come un'autostrada. Di là entrano tutti senza avere un minimo controllo. Lì non era prevista il varco, era previsto soltanto un dissuasore in pietra. Abbiamo richiesto che anche lì venga posizionato un varco perché ci sembra comunque una cosa necessaria e devo dire che hanno accolto positivamente questa nostra proposta. Nell'imminenza della stagione estiva l'Associazione Abitanti del Centro Storico chiederà un ulteriore incontro monotematico sull'abbandono selvaggio dei rifiuti e sulla sicurezza, ma non mancheranno proposte di carattere turistico e culturale. L'idea che mi è balenata proprio di sera è di propare al direttivo di creare un evento per fine luglio, un evento culturale modaiolo da eventualmente fare in una delle situazioni di recente restauro che potrebbe essere ad esempio via Frisari.